Davvero ho voluto incontrare le cittadine dell'Auto Tavolieri qui a Torre Maggiore per offrire una suggestione, per tentare di raccontare quello che sarà il mondo, quello che il mondo già oggi è rispetto al tentativo di uscire da una crisi profondissima che ha segnato negativamente l'economia anche del nostro continente e che ha per davvero messo in discussione il presente e il futuro soprattutto delle generazioni che oggi si affacciano al mondo della formazione ma anche al mondo del lavoro. La nostra speranza è quella di agganciare questo treno non immaginario né fantastico dello sviluppo che verrà, coinvolgendo in maniera trasversale le istituzioni, gli stakeholders, il mondo delle nuove professioni che già questa sera in qualche maniera si è qui rappresentato per consentire alla nostra provincia di non segnare più il passo ma di essere, e noi ci auguriamo che questo avvenga, in qualche maniera capofila di questo nuovo percorso anticipando un po' i tempi, cercando di stressare il sistema decisionale delle responsabilità perché non avvenga come purtroppo è accaduto nel passato che un territorio così ricco non solo ha le risorse naturali ma anche... Grazie a tutti!